Porta del Comune letteralmente chiuse a mezzogiorno in punto per la presentazione delle liste in corsa a Spoltore. 18.566 abitanti considerata tra le roccaforti del Partito Democratico. La città saluta il sindaco uscente Luciano Di Lorito giunto al termine dei suoi due mandati e aspetta il risultato delle urne. Dove a sfidarsi saranno in quattro a seguito della divisione nel centro-destra che ha prodotto ben tre candidati. Per l'area Lega Pierpaolo Pace, attuale consigliere comunale, sostenuto da due liste civiche. Marco Della Torre, candidato di Forza Italia e Fratelli d'Italia e sostenuto da Udc, Spoltore Libera e Prima Spoltore. E Nelson Anzoletti, candidato sindaco del gruppo civico In Comune fondato da Marina Febo, alle ultime elezioni candidata per Forza Italia, partito che poi ha lasciato. Per il centro-sinistra invece la parola d'ordine è continuità. Con la candidata sindaco Chiara Trulli, attuale vice sindaco, esponente del Partito Democratico, sarà sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle. Io mi aspetto di portare a termine quelli che sono i percorsi che abbiamo intrapreso e di fare anche fino all'ultimo giorno. Certo abbiamo avuto il rallentamento del Covid in questi cinque anni, però io credo che un sindaco, un'amministrazione debba lavorare anche fino all'ultimo giorno. Qual è la cosa di cui lei va più fiero in questo mandato? Io la cosa di cui vedo più fiero, che non era nei programmi elettorali, è come il Comune di Spoltore, ma posso dire anche gli altri comuni, hanno gestito l'emergenza Covid. Non dimentichiamoci che noi abbiamo dovuto accollarci delle funzioni che non sono nostre, ad esempio le funzioni sanitarie. Noi abbiamo fatto vaccini, abbiamo fatto un po' il coup di vaccini, abbiamo messo a disposizione strutture personale a fare i vaccini, così come i tamponi, così come tutto quello che imponeva questa emergenza inaspettata e per certi versi per noi impreparati. Grazie. Grazie.